Ma cosa vuoi che mi vuoi dare un titolo pubblicato su Repubblica da Marco Mesurati? Comunque, uno alla volta, uno alla volta. Ex dirigente della Juve rivela, così Moji pagava gli armi. Ok, questo è il titolo del giornale. Chi l'ha scritto? È il titolo del giornale. Marco Mesurati, c'è un'intervista a un dirigente della Juve. Questo è il titolo del giornale. Ok, direttore, si sente, si sente. Allora, questo qui. Allora, se c'è un virgolettato, così Moji pagava gli armi, c'è anche una persona. A questo punto si può anche curerare. La persona, infatti, io adesso... Ma non solo, ma non solo Querello, ma Querello anche lui, perché ha detto delle cose. Ma Maurizio, io ho detto niente, io ho riportato un articolo. Lui ha detto una cosa, ha detto una cosa, nelle precedenti trasmissioni, si è non detto faccia così. Fa quello che vuoi. È inutile. Ok, questo qui... Allora, questo qua, praticamente un documento che serviva al signore per prendere più soldi dalla Juve. Chi? Capito? Tutti ricattatori. Infatti la Juve ha liquidato questo signore, dandoli dei soldi. Tutti ricattatori. Questo qui. Ma questo qui si chiama... Lo querello io, non ti preoccupare. Ok, va bene. Allora, adesso voglio entrare nei termini ben precisi. Lui ha un'idea distorta di me, ha un'idea distorta di me, perché in pratica lui è andato a dire persino, persino, se Moji non critica Ballardini praticamente io non parlo più male di lui. Non è assolutamente vero. Ma questo l'ha mai detto. Ma questo l'ha mai detto. Non c'è nessuna cosa, non c'è nessuna ballardini. Ma questa è una falsità del signor Moji, che ha riempito di bugie. Maurizio, una cosa hai detto e vorrei una risposta dal direttore Moji, visto che abbiamo l'opportunità di averlo qui presente. Tu avevi sostenuto una volta che Corbelli, in cambio di andare in Serie A con una promessa di Luciano Moji... No, finisco, se no la gente a casa non capisce, perché noi lo sappiamo, gli altri a casa non lo sanno. Tu hai detto, Corbelli, ex presidente del Napoli, nell'anno della promozione dall'Abbia all'A, andò in Serie A con rassicurazioni da Luciano Moji in cambio del mercato estivo della prossima stagione. Tu vai in Serie A, ti facciamo andare noi, il mercato però lo facciamo noi. Ti ripeto, questa dichiarazione di Corbelli è stata fatta in una cena alla presenza di due testimoni, tra cui un avvocato. Pensate, guarda, il contrario. Allora questa qui è una querela che faccio a lui, così come una querela, quella che ha detto, lui ha detto che c'ha una dichiarazione di un giornalista, di un dirigente della Juventus che dice che io compravo gli arbitri, adesso se non tira fuori il nome di questo dirigente della Juventus, lui si prende una bella querela, perché ti ho sentito io, tu hai detto che c'è una dichiarazione. Di chi stai parlando? Quella dichiarazione che abbiamo preso dall'ex dirigente della Juventus. No, tu hai detto in televisione che c'è una dichiarazione, adesso lo dici in tribunale. No, però la cosa su Corbelli, la cosa su Corbelli. Ti ripeto, Corbelli, lei ha mai promesso al Napoli di dare un articolo? Sì, ma questo non è un dirigente. Non è un dirigente. Non lavorava, dimmi solo questo, lavorava per la Juventus. Lavorava per la Juventus. Questo non ha detto che è comprovogliato. Con calma, con calma, abbassiamo i toni perché non è comunque nostra intenzione. Io ti ho letto il titolo. Ascoltate, adesso do questa risposta. Parliamo poi di calcio, poi parliamo di calcio. No, aspetta, aspetta, no, si rende necessaria. Adesso lui dovrà dire in tribunale e il dirigente che praticamente ha detto che io comprovo l'armi perché era un dirigente sodale con me doveva essere. Quindi voglio vedere quello che c'è. Ok, allora. Tu non ripeto. Questo è l'articolo di un giornale. Questo è un titolo di un giornale, è diverso la cosa. Vieni in tribunale e poi sappi quanta persona. Io ho letto il titolo di un giornale. No, te ha detto il titolo di un giornale. Guarda, non mi spaventi, Luciano. Tu cerca di non fare come hai fatto con Baldini perché io non mi faccio minacciare. Ok, stop, calma. Tu hai già una querela. Calmi, stop, stop. Tu cerca di non fare come hai fatto con Baldini. No, no, fino ad ora parliamo di calcio. Parliamo di calcio. Allora, adesso parlo io. Parliamo di calcio, tranquilli. Il signor Moggi, non più tardi di dieci giorni fa, ha dichiarato al tribunale di Napoli la seguente cosa. Sì. Il Milan promise cappelli nuovi a Rodomonti. È vero. C'è un'intercettazione di Meani. Ebbene, è falso. Rodomonti se mara vicino a tutti. Perché non citate l'intercettazione di Rodomonti con il dirigente milanista Meani? Che dopo una vittoria per 1-0 del Milan, su rigore assegnato proprio dallo stesso arbitro, dice, rigore alla giusta, vedrai che il Presidente ti fa fare i capelli, inteso come trappianto, da 30 mila in Svizzera. Ho letto l'intercettazione. Bene. Attenzione. Lei ha sentito questa intercettazione? Ho letto l'intercettazione. Da dove? Ha letto l'intercettazione. In tribunale? Bene. Allora, adesso vi dico questo. Moggi ha detto l'ennesima falsità. Quella partita, disputata il 10 aprile del 2005, questa è la fotocopia della Manacco Panini, tra Milano e Brescia, è finita 1-1. Guarda, io ho letto... È finita 1-1, non 1-0 e non è stata vinta su rigore. Io ho letto... È l'ennesima falsità del signor Moggi che verrà correlato dall'arbitro Ordomone. Ho letto io l'intercettazione. Non ho preso una partita. Al tribunale di Napoli. E adesso, per cortesia... Nonno, adesso si parla di calcio perché l'abbiamo... Tu devi dire le cose che stanno poi con dei castelli di bugie. Tu stai facendo delle dichiarazioni che praticamente sono fuori dal seminario. Ma no, perché tu devi vedere quello che c'è in tribunale. E c'è un'intercettazione che... Ma io ho fatto l'ennesimo errore. Maurizio, basta, basta. Bugiardo! Stop, tranquillità. In fronte a questi personaggi qui, non devi parlare di chi. No, no, basta, basta. Io non sono stato mai condannato dal tribunale. Ma neppure io per adesso. Ti avrei dire? Giuseppe Meduri. Per adesso. Ah, basta, basta, basta. Servizio, grazie. Sono stato assolto già due volte. Servizio. Quindi stai zitto. Giuseppe Meduri. Secondo te Maurizio è amato dai tifosi della Juve? Infatti, devo andare allo stadio per sentire. Io ti dico questo. Secondo te, i tifosi della Juventus. Allora, ti dico questo. Informativa dei Carabinieri, 409 pagine del dicembre 2007. Lettere inventate, si intitola. Dunque... Sei preparato oggi? Come sei? Sì, dice. Abbasse fogli sono qui della gente a casa. È necessario correre i ripari, perché l'immagine di Luciano Moggi sta andando incalando. Come? Con una mobilitazione di lettori, di quotidiani e spettatori di tv private a favore dell'ex DG della Juve. Quei lettori in realtà non esistono. Come risulta dall'intercettazione dei Carabinieri. Se li sono inventati giornalisti amici o i collaboratori più fidati di Moggi. Due di loro parlano al telefono il 5 gennaio 2007. Parla di te, dai. Nello di Nicola. Nello di... Mi sono dimenticato una cosa importante. Il figlio. Dimmi, dobbiamo vedere, devi scrivere... A nome di un tifoso dell'Ascoli, di chi ti pare, Alessandro, Pasquale, Giovanni... Cinque giorni dopo, altra telefonata... Oh, non mette in mezzo mio figlio perché prendi la sede a te. No, no, infatti, il figlio non vogliamo parlare. Te lo dico subito, eh. Non è tuo figlio. Ok, adesso... Adesso, adesso... Comunque ci siamo capiti. No, 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 no. Suo personale... Che cosa ridi? Che cosa ridi? Direttore, allora, c'è... Maurizio, il Bologna sta facendo grandi cose. Secondo te il merito di Franco Colomba? Da 0 a 10, da 0 a 100 decidi tu? Beh, è sicuramente un merito importante. Sta facendo bene, molto bene. Sì, è una persona seria, un buonissimo allenatore. Ha fatto delle cose molto, molto importanti a Bologna. Qui sono d'accordo con Maurizio, anche perché ritengo che Franco Colomba sia entrato in una situazione molto difficile. Io devo dire che ho fatto... Ecco qui, io ho fatto una dichiarazione praticamente dicendo che secondo me era meglio non metterlo nella partita con la Sampdoria in trasferta. Era meglio farlo entrare in casa. Però, nonostante il 4 a 0 subito, perché la prima partita ha perso il 4 a 0, lui ha saputo rimettere insieme una squadra, diciamo i cocci di una squadra, e credo che l'abbia rimesso bene in mezzo perché ha valorizzato i giocatori. Per esempio Gimenez non conosce nessuno, adesso è un ottimo giocatore. Complimenti alla famiglia Menarini per Gimenez. Come? Complimenti alla famiglia Menarini per Gimenez. Complimenti alla famiglia Menarini. Coperta di Francesca o Renzo? Renzo, Renzo, lui è il telescaute. Complimenti anche, ma guarda, qui adesso... Renzo, che è il contatto di Luciano, a Colonia. No, 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 è un contatto con me, è un amico, amicissimo. Ti devo dire di più, oggi... Maglione l'hai messo tu, no? No, no, l'ha preso lui. Chi? Cricitiello? Oggi, no, Cricitiello, sì. Ho indicato te. Oggi, vedi, per esempio, ti devo dire una cosa, Renzo Menarini era a Napoli e io sono dovuto partire, mi dispiace molto perché saremmo andati a cena assieme, ma voglio vedere che cosa significa questo. Tu me ne spiace, non è contento che lei sia venuto qui. Lei è contento. Calcisticamente io devo dire che Colombo ha assemblato bene un ambiente e devo dire anche, guarda, non ho niente da eccepire dicendo che Luca Paraldi si è intromesso in una situazione che era abbastanza intrigata e lo sta portando avanti bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.